Vincenzo Seguino ha conosciuto sulla propria pelle gli effetti della guerra di Camorra tra i clan di Pianura. Il 10 agosto del 2000, infatti, suo figlio Luigi fu assassinato per errore insieme all'amico Paolo Castaldi da un commando del clan Marfella che li aveva scambiati per guardaspalle del boss dei Lago, cartello criminale avverso. Pochi giorni fa si è svolta la commemorazione dei due giovani al cimitero dove si trova la lapide intitolata ai due ragazzi, all'epoca dei fatti appena ventenni, ma il ricordo di Gigi e Paolo è stato macchiato da una serie di omicidi avvenuti nelle ultime settimane a Pianura dove è ripresa la faida tra le due organizzazioni criminali egemoni, la stessa guerra di 13 anni fa. Come è capitato ai nostri figli, poteva capitare anche l'altro giorno a Via Padula che quel raid che hanno sparato, sono stati dei colpi vaganti che potevano esserci altre vittime innocenti e questo noi non vogliamo. Cioè che le istituzioni debbano essere più presenti con le loro forze, con le loro possibilità di dare un segnale su questi territori, che non deve essere un territorio di degrado ma di miglioria. Alla commemorazione è intervenuto anche il sindaco De Magistris che ha lanciato il guanto di sfida ai clan della Camorra attivi nell'area nord di Napoli. In Pianura c'è un'attenzione importante come su tutta la città, soprattutto sui temi della legalità. Noi dobbiamo stare vicino alle persone per bene e far capire alle persone per male che sbagliano e quindi devono cambiare. Se non vogliono cambiare se ne andassero loro da Napoli perché le persone per bene vogliono rimanere a Napoli.